Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 12 luglio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo bilancia. Inizio settimana piacevole, in barba al martedì. Martedì, giorno della luna, che spesso, proprio perché è finito il weekend, avete storta. Non oggi, però, con la bianca signora in sé stile che vi fa il sunto della bella escursione appena effettuate magari azzarda già un programma per la prossima. Amichevoli anche i trigoni di Veneri di Saturno, in segno d'aria come il vostro, ecco il segreto di questo martedì così. Domenicale, che vi accende sul volto un bel sorriso. Di fatto oggi non succede nulla di straordinario, se avete un amore lontano è tutto un via vai di chiamate e messaggi, se è in casa o a portata di mano, trascorrete una serata piacevole insieme, toccando argomenti molto intimi ma sdrammatizzando gli eventuali problemi con accenti leggeri. Cena con parenti e amici, dove apportare un tocco di novità con qualche specialità acquistata in viaggio. La paura di restare soli come conseguenza di una separazione improvvisa è enorme, c'è angoscia e un inizio di solitudine importante. Al tutto contribuisce anche uno stato di salute incerto e in sofferenza. L'amore comunque necessita di una sana rigenerazione e bisogna far pulizia di tutto ciò che vi fa soffrire. Il periodo che vi aspetta non contribuirà certo alla vostra tranquillità e serenità e dovrete davvero lottare molto e intensamente per ottenere una vita migliore. La stanchezza che sentite pesarvi è dovuta soprattutto al dover inseguire gli altri, cercate di iniziare un percorso di rinnovamento che vi consenta l'iniziativa. Non cantate vittoria subito al primo applauso, cercate di rendere solida la vostra posizione in merito ad alcuni problemi che riuscirete a risolvere. I single oggi risentiranno particolarmente di attimi di sfiducia e di malumore, una buona ricetta per superare il tutto potrebbe essere quella di Trascorrere più tempo con gli amici C'è qualcuno che vi pensa in segreto e sempre segretamente vi desidera, ma voi sembrate snobbarlo ed è per questo che resta nascosto. Sappiate tenere per voi i segreti che vi confideranno, qualcuno vi sta mettendo infatti alla prova. Avrete tanta voglia di amore e di dolci abbandoni. Prendete voi l'iniziativa. Non potreste desiderare di meglio per oggi, Giove è ben disposto anche se non mancheranno inconvenienti e piccoli fastidi. È il momento buono per darsi da fare e iniziare a lavorare per un progetto che vi sta a cuore. Amore e amicizia oggi vi sorridono, approfittatene e rendetevi disponibili ed aperti a qualunque tipo di serata. È un periodo in cui divertirvi e distrarvi vi farà sicuramente bene. Se siete preoccupati dalla staticità e monotonia dei vostri giorni, sappiate che da qualche parte si sta muovendo qualcosa che presto movimenterà le vostre giornate. Amore a gonfivele per i nati della prima decade. Se volete vivere tranquillamente la vostra storia d'amore non fatevi condizionare dagli ambienti familiari. I vostri sentimenti come sono messi negli utlimi tempi? Se venite fuori da una relazione complicata e vi sentite ancora scottati, oggi sarà meglio non prendere impegni eccessivamente impegnativi appunto. Evidentemente nel vostro cuore sapete già che le cose non potevano andare, sia che si tratti di un partner o di un amico, anche se ci avete sperato fino all'ultimo momento. I tempi non sono dalla vostra parte al momento, ma non dovete perdere la speranza, dovete continuare a lavorare affinché le cose cambino in vostro favore. Anche se speravate in qualcosa di magnifico, dovrete accontentarvi di qualcosa di ordinario. Gioco dei transiti che si presenta molto stimolante e positivo per voi, con un bel transito della luna in sagittario che vi allieta la mente, lo spirito e il fisico. La configurazione generale vi illumina la casa paterna di affettività e armonia tra tutti i vari componenti del clan. Sempre la luna dà modo alla vostra avvenenza di risplendere, specie se appartenete al gentil sesso e se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. Godete di quella buona fortuna, che sta accompagnando il successo di tutte le vostre azioni. Giornata stimolante, soprattutto a livello lavorativo. Dovreste approfittarne, per fare una richiesta, affrontare un colloquio, fissare un incontro di lavoro. Evitate però di fare spese superflue, soprattutto per la casa. In amore questa prima parte del mese è migliore della seconda. Potrebbero però restare dei dubbi. Forse non siete ancora riusciti a fare breccia nel cuore di qualcuno anche a livello affettivo, e questo vi pesa non poco, specialmente pesa sul vostro ego, sempre certo di piacere per le vostre caratteristiche innate. Avete due possibilità, rassegnarvi o lavorare ancora su voi stessi. Una terza via non è contemplata, quindi in un certo senso vi sentirete comunque sconfitti. In realtà è la cosa migliore che potreste imparare nel corso della vita, ovvero che non potete piacere a tutti. In questa giornata gli astri ti consigliano di chiarire un malinteso con un collega e di essere più accondiscendente. In ambito affettivo, dovrai agire con astuzia se vuoi concederti una divertente serata con gli amici. Un consiglio, mischia il vero con il falso. Amore. Non ci sarà posto per le fantasie audaci e piccanti in questa giornata, il partner sente il bisogno di tenerezze, per questo l'eros assumerà a toni un po' più tranquilli. Questa notte con un abbigliamento provocante ma non disinibito riuscirai sicuramente ad arrivare alla meta agognata. Cari bilancia, avete bisogno di divagare la mente. Ci sono un po' troppi problemi da affrontare in questo periodo dell'anno. È vero che possono anche arrivare delle belle novità però il fatto di avere cambiato molto nella vostra vita e di aver lasciato qualcosa a cui tenevate è davvero pesante per voi. Sarete pieni di energia e questo vi porterà dritti verso nuove conquiste, o almeno dovrebbe se non fate le persone troppo sicure di sé. Ancora calma piatta per le coppie, ma in via di miglioramento. Vi dedicate, con il vostro tipico estro, a una persona che volete sedurre, perché ha, prima di tutto, lui o lei, espugnato il vostro cuore e le vostre resistenze intime. L'ottima configurazione planetaria vi dona la possibilità di riuscirvi e con discreto successo. Se avete una relazione stabile e siete nati nella prima decade programmate un'uscita galeotta con amici simpatici. Lavoro Con un cielo così positivo nulla riuscirà a nuocerti, saprai gestirti con grande disinvoltura e troverai la strada per risolvere tutte le tue problematiche. Oggi chi sta cercando una nuova occupazione non riuscirà a trovare il terreno più adatto alle sue qualità. Conviene rimandare le ricerche a domani. Soprattutto in mattinata vi mancherà la concentrazione giusta per affrontare la giornata che si presenta molto difficoltosa a causa della mole di impegni. Qualche ambizione che avevate riposto nella carriera, forse va un attimo messa tra parentesi, per adesso. Giove, Sole, Mercurio e Plutone tra Ariete, Cancro e Capricorno, vi obbligano a fare percorsi diversi da quelli programmati, specie se appartenete alla prima e alla terza decade bilancina. Benessere Questa settimana avrete ancora Marte in buon aspetto che se da un lato promette vigore fisico, dall'altro irrita la pelle e infiamma la vescica. Saranno possibili dolori alle ossa e la riacutizzazione dei malanni cronici. Tu sei un viaggiatore nato. Devi avere un'attività sportiva regolare per sentirti bene. Teniti sempre in forma per godere della libertà di azione che desideri e non dimenticare di bere tanta acqua. Per lei, bisogno di armonia e giustizia, basta una discussione ad alta voce per mettervi in allarme. Per lui, a dispetto delle tentazioni vi sforzate di rigare dritto, cuore e gola sotto controllo. Colore delle emozioni, prugna. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9 Attività, 8 Finanze, 8 Beneessere, 9 Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.